La Juve è tra le stelle d'Europa. Con il nostro tifo facciamola diventare la regina. Seguila con lo Juventus Ufficial Punk Club di Zano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Malmo. Champions League fase a Gironi, sesta giornata. Mercoledì 8 dicembre, ore 18.45. Viaggio di andata di ritorno più biglietto stadio. Ci trovi a Lizzano, in piazza Monteotti 22. Per info e contatti Antonio 348 808 8803 Cristian 349 68 000 66 E grida con noi Forza Juve fino alla fine.